Sì, esatto, abbiamo trollato questo tizio, nella sua stream. Ma torniamo un attimo indietro, torniamo al 5 dicembre 2019, data in cui questo tizio, lo stesso, tizio, mi ha dissato in live dopo che Raytov, ciao Raytov se stai guardando questo video, gli ha chiesto di me. Dato che lui stesso è parecchio toxic, ha detto varie volte di odiare i passivi in diretta e di odiare me, come avete visto prima, io e 1bit gli abbiamo fatto giocare la partita più passiva di sempre. Il nostro obiettivo iniziale era quello di far durare la partita il più possibile e grazie alla piattaforma di Raytov siamo riusciti nel nostro intento. Guarda questo tizio, è proprio riuscito! Sono morto perché di... What the hell, tizio? Questi tizio sono proprio riuscito, ah e hanno una lead, GG, GG, SD, SD, è il game over. Dopo il primo stock, infatti, io e 1bit siamo scoppiati a ridere totalmente, perché questi player sono 2600, ok, 2600, e noi stavamo vincendo letteralmente saltellando sul posto. Poco dopo abbiamo infatti vinto il game spammando il mio gran pound dell'ascia e lui mi ha tolto dagli amici. Ah, vero, non lo so, è accolato. Ah, va a 중." Oh, stai, non so, è un uomo, è un uomo. Ah, è vero, non so, è un livro. Ah, sono sempre not. Ah, è vero, non so, è un problema stupendo il genere. Ah, stai, ma lì? I have zero respect for you if you play like that